E' assolutamente sui social impazzita la situazione di Benigno, tutti hanno cominciato addirittura a offenderlo veramente quindi ho pensato facciamo un post satirico, divertente, visto che comunque lo conosco e magari smorsiamo un po' i toni e quindi come tutti hanno ben visto e anche pubblicato nei vari giornali io ho scritto soltanto, vabbè votate, fate votare Francesco Benigno, mal che vada saprete già cosa vi risponde e ho usato una sua frase storica che lo ha reso famoso, che fa parte di uno dei film che ha realizzato i ragazzi fuori quando lui era al mare e da lì pensavo lui gradisse la cosa, la prendesse come scherzo quello che voleva essere insomma invece di fatto mi ha cominciato a scrivere in privato visto che comunque eravamo già conoscenti fino ad arrivare alle minacce gravi, ci vediamo, verrò mercoledì a farti gli occhi gonfi, comprare gli occhiali perché gli occhi gonfi, non ti puoi fare idea, allora a quel punto ho detto vabbè dallo scherzo si è passata a cose ben più serie quindi mi sono adoperato per fare presente questo in quest'ora insomma ha messo insomma in ballo delle situazioni parlando di cose strettamente familiari come i miei figli parlava di una mia figlia che io non ho figlie femmine, ho tre maschi ma non figlie femmine e invece poi lui ha corretto andando contro mio figlio, dicendo delle cose insomma di alcune vicende lui sicuramente non conosce il dettaglio, sono sicuro che non può conoscere uno non può dire che si candida per i cittadini e poi dietro le quinte offendere, minacciare cioè siamo contro le cose illecite, contro la mafia e poi questi sono gli atteggiamenti che non vanno adottati secondo me